Dopo anni di attesa i cittadini fanesi che ne erano sprovvisti potranno allacciarsi alla rete di metano. Questa operazione porterà non solo un risparmio, minore emissioni e quindi un beneficio per l'ambiente, ma anche più sicurezza, impianti moderni e un aumento del valore della casa. Con questo intervento daremo una risposta conclusiva e la città a quel punto sarà a regime per quello che riguarda il metano. Quindi con un vantaggio che porterà dei risparmi nelle tasche di quei cittadini che purtroppo fino ad oggi non potevano avere questa opportunità. Quindi con soddisfazione ancora una volta stiamo dimostrando che, come avevamo anticipato, stiamo dando risposta a tutti i problemi della città. È un affano che cresce, ha detto in conferenza al sindaco Seri, che nella sala della Concordia del municipio fanese ha presentato il progetto insieme alla presidente di Aset Spa, Lucia Capodagli, all'amministratore delegato di AES, fanno distribuzione Paolo Cateni e all'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi. Abbiamo calcolato che il risparmio per i cittadini allacciandosi alla rete del gas sarà dal 35 al 50% rispetto alle spese di riscaldamento. E quindi questo ovviamente credo che sia una buona notizia. Ed è una buona notizia per tanta parte della città, perché interverremo strada a San Michele, quindi a Tre Ponti, a Falcinetto, a Sant'Andrea e in Villis, a Ferretto, Magliano e San Cesario, a Carignano, a Caminate e anche in via Campanella a La Chiaruccia. Inoltre collegheremo anche l'impianto di cremazione futuro che faremo al cimitero dell'Ulivo. È una grande soddisfazione per me, per noi, per l'amministrazione lanciarla oggi, perché a due anni dall'inizio delle nostre attività finalmente una risposta di questo tipo arriva. I lavori sono già iniziati nella frazione di Falcinetto, dopodiché verrà data priorità all'impianto di cremazione e poi si seguirà il cronoprogramma con un totale di 503 nuovi allacci che interesseranno oltre 1700 abitanti. Per chi ne fosse interessato dovrà presentarsi all'ufficio allacci di via Fanella e richiedere un preventivo. Il costo medio è di circa 1400 euro, cifra che diminuirà se sono presenti più contatori, come nel caso dei condomini. Maggiori dettagli poi verranno forniti durante tre incontri pubblici. I primi due si terranno mercoledì 16 marzo, alle 18.30 al Circolo Acli di Sant'Andrea in Villis, mentre la sera alle 21 al ristorante da Biagiona a Falcinetto. Allo stesso orario, ma di lunedì 21 marzo, si svolgerà un incontro all'ex scuola di camminate. Oltre ai tecnici e all'amministrazione comunale, parteciperà anche la società che gestisce il servizio, formata per il 51% da Aset Spa e per il 49% da Edma SRL, le due che insieme hanno partecipato alla gara. È un intervento che è andato in appalto per 1.600.000 euro, che con il circa 20% di ribasso poi è stato appaltato all'impresa Alma CIS. Sono state programmate delle assemblee pubbliche nei territori interessati, dove ovviamente oltre a spiegare la modalità di esecuzione dei lavori, saranno date tutte le informazioni anche per come poter accedere alla richiesta del servizio, all'allacciamento e a dare esecuzione complessiva a tutto quello che è l'investimento, perché ovviamente l'estensione della rete è finalizzata anche all'acquisizione di nuovi clienti per la società del territorio.